Tra i tanti mezzi di trasporto che vengono rubati giornalmente, ce ne sono alcuni che si tende a lasciare legittimi proprietari perché poi non è facile passare inosservati lungo le strade. Ed è stato dunque originale la scelta di rubare un'ambulanza per poi finire fuoristrada con le ruote all'aria. È accaduto Ravenna dove un marocchino 22enne è fuggito mentre si trovava in TSO il trattamento sanitario obbligatorio per le persone con patologie psichiatriche. L'uomo è salito sul mezzo di soccorso rubato alla pubblica assistenza, ma arrivato in una curva, a causa della scarsa conoscenza del mezzo e probabilmente le limitate capacità alla guida, è uscito di strada andando a ribaltarsi nel campo di accente alla careggiata stradale. Non ha riportato ferite gravi ed è stato subito nuovamente trasportato all'ospedale mentre l'ambulanza ha avuto seri danni alla carrozzeria. È intervenuta la Polizia Municipale di Ravenna per regolare il traffico mentre la Polizia di Stato si è occupata dei rilievi.